E poi dopo... Aveva racchiuso le sue avventure in un diario di viaggio arricchito da foto, suggerimenti e lezioni di vita e oggi, dopo aver venduto mille copie del libro Missione Sardegna al giro della Sardegna in bici senza soldi, ha donato l'intero ricavato di oltre 4.600 euro all'associazione Maruzza Regione Marcheollus che sostiene le cure palliative pediatriche. Una scelta che è andata così a realizzare la promessa fatta da Cristian alla mamma Ornella quando era in fin di vita, quella di portare nel mondo i suoi insegnamenti, sorridere sempre, anche se va tutto storto, rispettare gli altri e aiutare il prossimo. Se questo progetto è andato a buon fine, è grazie alle persone che hanno avuto un cuore grandissimo. È regalo nel regalo, perché tutti quelli che l'hanno letto, perché poi qualcuno l'ha comprato anche per aiutare l'associazione, ma tutti quelli che l'hanno letto, la cosa bella è che il viaggio nel viaggio, grazie a questi post-it che sono all'interno del libro, grazie a queste pillole di saggezza che ogni giorno, ogni sfida che superavo, mettevo alla fine di ogni capitolo, hanno aiutato queste persone a spronarsi un po' nella vita e a osare un po' di più. Questo era un po' lo scopo dei messaggi che volevamo mandare. Presenti alla consegna anche i consiglieri regionali Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle, Luca Serfilippi della Lega, che attraverso delle mozioni chiederanno l'istituzione nella provincia pesarese di un centro di cure palliative pediatriche. A lanciare un appello è anche il segretario generale della Fondazione Maruzza. Non è soltanto la Regione Marche, ahimè, in cui manca un centro. Infatti sono molto molto felice perché la Regione Marche mi sembra che si stia muovendo nella maniera e nel modo giusto. Sono 35.000 i bambini ogni anno in Italia che avrebbero bisogno di cure palliative specifiche per la loro età e purtroppo soltanto il 5% più o meno ne può usufruire. E questo è un grosso problema perché ci sono famiglie che si trovano disperate perché devono magari lasciare il lavoro, seguire il loro figlio nelle strutture esistenti tipo l'Hospice Pediatrico di Padova, piuttosto che a Genova, piuttosto al Gaslini di Genova. Sono pochissime le strutture adesso che sono in grado di accogliere questi bambini e le loro famiglie. E oltre all'aumento della mobilità passiva, la mancanza di un centro provoca forti disagi dal punto di vista economico ed emotivo fino ai problemi di coppia. Io ringrazio con tutto il cuore a nome dell'associazione Maruzza Marche, l'amico Cristian Buzelli per questo pensiero favoloso che ha avuto perché questi soldi andranno per fare dei corsi di formazione per medici e infermieri per assistere questi bambini sfortunati a casa. Fano alla città dei bambini e delle bambine. Noi ci muoviamo per i più sfortunati, per quelli che hanno bisogno di cure e quindi come ha scritto un bambino a casa è più meglio, noi cerchiamo di assistere a casa il più possibile a questi bambini nelle fasi acute del dolore. Ora Buzelli dopo aver trascorso gli ultimi cinque mesi in Sicilia dove ha svolto un'esperienza di volontariato in un centro di urno per bambini e ragazzi disagiati senza famiglia, si prepara al suo prossimo viaggio. Purtroppo è saltato quello che avevo promesso, Italia, Francia, Spagna, Portogallo senza soldi è saltato ma è arrivato un progetto meraviglioso. Ripartiamo il 2021, partiamo il 14 giugno da Milano e faremo da Milano a Palermo faremo una raccolta fondi per le pediatrie d'Italia. Toccheremo 20 ospedali dove il primario che è con me farà delle formazioni a questi dottori e noi facciamo questa raccolta fondi che doneremo a queste associazioni per ogni città un ospedale. Quindi sarà un mese meraviglioso e sarà tutto documentato come sempre nei canali, sarà bellissimo. Grazie. 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 Grazie.